... la musica, quindi dopo la fune per me è l'esercizio migliore di Caneva. Intanto 28,95 rappresenta il massimo punteggio ottenuto in questa manifestazione, anche se rimane ancora il nastro, l'ultimo attrezzo, anche se la differenza tra Caneva e Cantaluppi sembra a questo punto davvero incolmabile. Ma noi stiamo notando in tutte le gare che oggi come oggi ancora la giuria delle difficoltà che siano di attrezzo o di corpo, che vengono sommate e divise per due, fanno la classifica e la gara. Per cui se difficoltà di corpo soprattutto vengono riconosciute più a Caneva che a qualsiasi altra, la differenza è quasi tutta lì. Ah, peccato, bravissima perché è obbligatorio essere in contatto con l'attrezzo nell'ultima posizione dell'esercizio. Lei ha perso la bacchetta ma rapidamente ci ha appoggiato il piede sopra per non incorrere nella doppia penalità, la penalità della caduta e la penalità del fatto che non sia.